Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro amico Lipi 2 e il 200 Siamo qui oggi su Outlast Non sono a casa mia, sono a casa di un mio amico che mi ha gentilmente prestato il computer Per la gioia di voi psicopatici che me ne ha chiesto nella realtà A voi Outlast, perciò che ti parlo da psicopatico Ora se non guardo il video almeno 100 volte ti vengo a prendere anche perchè sono i miei vivi Per tutti gli altri, buona visione Grazie a tutti Buongiorno a tutti Grazie a tutti La qualità del computer non la sto facendo con un telefonato che ti sto registrando con grazie Grazie al mio amico che c'ha il computer Grazie a tutti 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 al fan cuore è già cominciato c'ho il dito su shift chissà come mai no dicevo per quelli che hanno visto come si chiama esp fenomeni paranormali eh boh che cazzo ah sembra quasi tratto da quel film lì perchè c'è un manicomio ovviamente il solito deficiente siiii bravo entra dice ma si dai tanto non ci sarà niente guardate qua cazzo 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 numero protocollo 164 inizia del presente uhp billy billy vieni cazzo quindi allora abbiamo adesso un cane del mio amico che è un ciua no un pincher scusate che cerca di cazzo 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 no dicevo ehm dicevo ehm voglio avvenire anche perchè forse facciamo due video siccome la mia salita mentale non ci tengo vabbè cazzo non ci tifo perchè non potete vedere la mia faccia perchè ho fatto male al muscolo cazzo 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 Noi! Noi! Ci hanno usato! Si sono usato! I ammissi! I ammissi! I ammissi! I ammissi! I ammissi! I ammissi! Ok! Ok! I ammissi! Oh, che è questo! A grippa! You have to hide! You can unlock the main doors for the security and control! C-ca-ca-ca-io? You have to cut the fuck out of this terrorist! Oh, I can! Ah, I can! Capo! To i ammissi! ... ... ... ... ... ... E come sei tu allora? ragazzi fermiamo un attimo il video qua e ci vediamo subito dopo